L'aria che si respira è quella delle feste, quello dei grandi momenti, dello stare insieme anche in famiglia, del divertirsi sui 100 km delle nostre piste e soprattutto, a tanto atteso, il Capodanno in piazza a Folgaria per salutare l'anno che se ne va e accogliere nel flagore del scoccare delle ore 12 il nuovo anno. Ma poi il divertimento continuerà per tutto il 2024 con tante iniziative sulle nostre piste nel centro di Folgaria, al lago di Lavarone con le immersioni sotto i ghiacci e vogliamo già annunciarvi che il 2024 porterà sull'Alpecimbra tantissimi nuovi eventi sportivi e quindi continuate a seguirci. E per quanto riguarda invece le fiaccolate? Le fiaccolate dei maestri di sci sono al momento più atteso, soprattutto dai bambini, avremo la fiaccolata il 30 a fondo piccolo e poi il 31 le due grandi fiaccolate, sia a Lavarone che a Folgaria a fondo grande e quindi saranno i nostri maestri di sci a dar vita a questo grandioso spettacolo dove il fuoco e la neve nel loro magico contrasto riscalderanno proprio gli animi.